E' come la prima teatro, questa sera è la prima volta che tutte le eccellenze della guida sono presenti tutti insieme, quindi trovare tanto per partire così non è da tutti i giorni, ecco perché c'è la fila, ma questo va dato atto anche a chi ha lavorato per creare questa guida, ha lavorato tantissimo tutta la segretaria dell'AIS, i degustatori di tutta la Puglia e di ogni territorio, coordinati dal dottor Baldassarre, con un lavoro certosino, attento, con tutti i margini di errore che ci possono essere, però abbiamo portato la Puglia ormai a numeri importanti come presenza sulla guida, sia su quella cartacea che sull'applicazione. Anche stasera, come tutti gli eventi ormai targati AIS Lecce, hanno riscosso un grandissimo successo di pubblico, come potete vedere, ovviamente abbiamo una serata che prevede la celebrazione delle etichette di Puglia premiate dalla nostra guida, sono ben 74 e ovviamente è una garanzia a qualsiasi evento ormai organizzato da AIS Lecce, questo è quello che almeno traspare dalla risposta di pubblico che abbiamo. Sempre maggiore attenzione da parte delle persone nei confronti del vino e noi possiamo dire di essere sicuramente un veicolo che riesce a trainare queste persone, a tenerle insieme e far sì che la qualità anche del consumatore finale sia sempre più alta e che ritorni a vantaggio anche poi dei produttori. Noi facciamo questo in ambito solo di passione, ovviamente non viviamo di associazione italiana sommelier, viviamo di altro e diamo il nostro però contributo a questa famiglia che per noi è una cosa veramente molto importante, importante a livello di valori, è importante a livello di competenze, è importante a livello di esaltazione di quelli che sono i settori della filiera vitivinicola pugliese. L'olio di Puglia probabilmente merita da parte dell'associazione italiana sommelier è un maggiore impegno che stiamo dedicando per far conoscere questa ricchezza, questo scrigno di varietà veramente unico che ci caratterizza a livello mondiale. Io sono un appassionato davvero proprio viscerale degli oli di Puglia. Questa sera è una serata importante dove ci sono tantissimi amici produttori nel mondo del vino che noi insieme facciamo anche dei percorsi importanti fuori dalla regione Puglia. I progetti oggi ci portano sempre a raccontare la nostra tradizione norcina fuori dalla nostra Puglia, lo facciamo con orgoglio, lo facciamo in posti importanti dove non è solo il prodotto che raccontiamo ma anche le nostre origini. Noi siamo in un territorio centrale della Puglia, la Valle d'Itria, che oggi è un territorio vocato a un turismo di qualità. Questo anche sotto l'aspetto di quello che può essere la gastronomia che noi riusciamo ad offrire. Ciao!